La montagna è un luogo unico dove fare sport perché offre paesaggi straordinari e mette alla prova il nostro fisico portandolo al limite. Chi ama correre montagna sa bene la sensazione di libertà che può dare il nostro sport e farlo da soli ha un sapore ancora più particolare. Però bisogna dare alla sicurezza la massima priorità perché l'imprevisto quando ci si allena o si pratica attività in montagna è sempre dietro l'angolo. È fondamentale quando ci si inoltre in zone isolate avere sempre la possibilità di contattare i nostri cari oppure di richiedere aiuto immediato in caso di emergenza. Il dispositivo che vi consente di avere tutto ciò non è il cellulare ma un comunicatore satellitare Garmin, Enrich Mini. È un GPS con connessione satellitare Iridium che consente di comunicare anche dove non è presente copertura telefonica e soprattutto in caso di difficoltà o incidente permette di inviare una richiesta di aiuto premendo semplicemente il tasto SOS. L'SOS invia immediatamente la vostra posizione al centro internazionale monitoraggio emergenze in modo che i soccorsi si attivino per venirvi a recuperare in tempo breve e assistervi via SMS in attesa del loro arrivo. È piccolo e pesa solo 100 grammi ed ha una durata della batteria ampissima. È perfetto per chi pratica sport perché non appesantisce il vostro equipaggiamento. Da un consiglio a tutti gli amanti della montagna, dal trail runner a chi pratica trekking in questo periodo estivo. Portate con voi Enrich Mini perché vi rende più sicuri e fa stare più tranquilli alle vostre famiglie.